Ciao a tutti e a tutte, io sono Vittoria e questo è il nostro accetto. Bene, parto pettinandomi le sopracciglia in stile Lupo Lucio, tutte in alto, sì, così. Poi inizio a... beh, gli faccio una punta e le delineo meglio, sì, così. Ora, giustamente le pettino in giù, perché prima le ho pettinate in su e faccio di nuovo ancora la punta di qua e di là, perché mi va. E le ripettino, perché si sono spettinate di nuovo per una folata di vento, probabilmente. Ora prendo questo gel per le sopracciglia e le ripettino un'altra volta, perché mi piace. Ora prendo questo correttore, penso sì, e lo metto sotto le occhiaie, così sono un po' meno blu. Una spugnetta, tampono, 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 sì, faccio una faccia un po' da psicopatica. Ho sempre che abbia una crisi psicotica, ma continuo a tamponare. Ora prendo questa cosa della nurse e la schiaffeggio e tampono, tampono di nuovo, perché mi piace. Come pettinarmi le sopracciglia. Prendo questa cosa marrone, un bronzer, penso sì, e inizio a sfregare molto forte sulle guance, perché voglio farmi uscire un po' di più gli zigomi. E adesso sulla fronte, per coprire un po' la pelata che mi sta spuntando. L'altro zigomo, delineo il naso e delineo anche la punta. Che buon profumo che ha, sì, è delizioso. Ora, tutto quello che ho messo lo spazzo via, perché è stato inutile. Prendo il fondotinta e giustamente lo metto sulle palpebre, perché è quello a cui serve il fondotinta. Coprire le palpebre. Tampono con il mio ditino delicato e prendo quest'altra cosa in polvere bianca e la metto sugli occhi. Così, con le mie unghiacce rosa. Prendo questa tinta labbra. No, volevo dire questa cosa per le guance. Sì, un blush liquido, presumo. E inizio ad assomigliare lentamente ad Heidi. Cerco di sfumare. No, sono davvero Audi. Prendo questo illuminante e lo metto sulla puntina del naso. Perché se non hai un naso luccicante, di base non sei nessuno. Nell'interno occhio. Sotto l'arcata sopraccigliere. E sopra le mie labbra. Prendo un altro illuminante, perché non si è mai abbastanza luccicanti. E lo rimetto sul naso. Lo rimetto sotto le ciglia. E lo rimetto sopra le labbra. Non fa una piega. Ora, tempo delle ciglia finte. Oh, ma sono stata velocissima. Eccole qui. E prendo questa matita bianca. Me la infilo nell'occhio. Cercando di non accecarmi. E sì, perfetto, è andata bene. Ora prendo il mascara, perché non è abbastanza mettere le ciglia finte. Dobbiamo anche un attimo intratramarle con il mascara. Giustamente, sotto. Vedete, se non fate questa faccia un po' strana, non viene bene. Quindi mi raccomando, fate sempre così. E poi prendo una matita rossa. E ricordatevi di disegnare sempre le labbra al di fuori delle vostre labbra, in modo che possiate ingannare gli altri, apparendo con delle labbra più grandi. E poi andiamo a riempire, cercando di stare dentro nei contorni, ma questo penso che l'abbiamo imparato un po' tutti all'asilo. E eccomi qui! Veramente deliziosa con questo make-up. Ora mi tolgo le mie orecchiette. Oh no, forse era meglio lasciarle, visto come sono usciti i capelli. Questo straccetto non ci piace. E... Magia! Sono veramente affascinante con queste mollettine che ho ritirato fuori da quando avevo sei anni e andavo all'asilo. Sbatto le palpebre, faccio faccine un po' strane. Sono deliziosa! Grazie a tutti!